Allora, ci serve organizzazione Ok, zanzaro vai Muori Te riparo L'arma scarica Cristo questo Hai rotto, ok Grazie Muori Ok, zanzaro L'automa lancia il razzi, sto aspettando Sì ragazzi, faccio il... Vai, vai, vai Dio quanto sono duri Da dietro? No, scusa, da dove ne esci? Seriamente Lei Ok Zanzaro Zanzaro Ma toglietevi voi Grazie Morte nemici Tranquilla Elisabeth Non è la nostra arma definitiva Ancora vivo Ok, lì c'è la zanzara Sì, sì Bravo, bravo Grazie Grazie, grazie, grazie Danzara Prendo le munizioni Una pera Puro Muori Ok Oddio Crystal 2 Muori, 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 muori Ottimo E uno E' andato Per la famiglia Adesso Ok Il signore giudica Io agisco Ok Vai Per la famiglia Sì Fila tesoro Tutto il tempo Che serve Grazie Undici munizioni Oddio Vai 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 Un secondo di caricamento Ok Quello che lì mi ha rotto Mi hai rotto Ok Cucina Quarto Ok Moltoni cannone portatile Ancora Cioè Siete seri Quanti cavolo siete Andiamo Elisabeth Danzara Ok Lasciamo sparare lei Io controllo qua Dovo trovare un Come si chiama Delle munizioni In combattimento Possibile scassinare Ok Siete qui Sì 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 Oh La tripla Ragazzi Vieni 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 Un rush è Uh due Grimaldelli Ok Mio fratello mi ha posto un ultimatum Se non rimandiamo la ragazza Dove l'abbiamo presa Dovremmo dividerci Allora qua Mi serve Allora aiuto A durata elettrica Mi spedisci a me Aiuto omittente Trappole Vabbè Mi basta questo Si vede una pagina vuota Io vedo Relier Ma è mio fratello Quindi io farò la mia parte Pur sapendo Che finirà tutto in lacrime Tutta tua Grazie Andiamo Beh ci siamo ricaricati Alla fine un po' No eh No eh Eh le munizioni Un po' mancano Però dai Dovremmo riuscirci Munizioni Munizioni carabina No mi servono munizioni Ragazzi Oh munizioni Ok Vuoto Mi serve un distributore Di munizioni Perché non c'è Nel momento Del bisogno Vabbè 10 21 13 Ce la giocheremo bene Andiamo Stai bene Elisabeth Non è No eh Pensi che Sia possibile Riscattarsi Per il tipo di cose Che abbiamo fatto Riscattarsi Non ne vedo l'utilità Vogue Hai paura di te No No Ho paura di te Ok Chi è? Oh Casini in avvicinamento Preso Preso a culo No, 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 aspetta, aspetta Avevo io Prima di tutto ci mettiamo Cura urgente Vantaggio munzioni No, avevo lo scudo invernale, giusto? Saltando da una schiena Tira una breve invulnerabilità No, eh? Non sarà questo? No Fu così che sbaglio tutto No, no, invece sì Ce l'ho L'invulnerabilità mi va benissimo così Quindi io farò la mia parte Consapendo che finirà tutto in lacrime È un metodo Funzionante almeno Così Ecco Fuori No, 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 no Fuori Invulnerabile, bitch Anzi, aspetta, aspetta Noo Che è? Anche loro No, no, dai Sono invulnerabile Ok Grazie Tu mi dici dove li hai trovati Ok Ok, questo è duro Vai Ce l'impossessiamo Eh, anche il Razzi adesso Quattro, ok Dove sono i Razzi? Dove? Dove? Ma buongiorno Signore Uppice Sarà divertente No, eh Non ha funzionato Vai Trasferisci la corretta a tutti La corretta di elettricità a tutti Questo è tuo Ce la stiamo giocando bene Cosa ci fai nella mia Nave armata, scusa Ah, no Ho delle munizioni Sì, grazie Via, via, via Giù Ok Ma quanti siete? Mero male che ho questa invulnerabilità Momentanea, però È un'ottima tattica, ragazzi Se volete seguirla, no? Ok 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 Un'ottima tattica Un'ottima tattica Villa tesoro Yeah E ce l'abbiamo fatta Oppure Potremmo volare fino a Parigi Se vuoi fammi scendere Non è un problema tu Non ti abbandonerò Non lo faresti Vero? Mai Guarda Ci sono skyline Su tutta la superficie Dell'ammiraglia Sono coperte da capsule Di patrioti motorizzati Deve essere da lì che arrivano Non andrei vicino a quelle skyline Finché ci sono quelle capsule Comstock è in cima all'ammiraglia Saliamo Aspetta tesoro Rimetto a posto le cose Grazie scudo invernale Si è stato utilissimo Rimettiamoci Il nostro Vantaggio munizioni Guarda The Wind C'è qualcosa in lui Che non riesce ad afferrare Ben presto capirai Che tipo di uomo sono io E che tipo di uomo non è lui Nessun problema Qua ci saranno munizioni Ciao bello Aprilo Ecco qua Bene ragazzi Termino qua per sto video Chi è che gira intorno a chi Ci vediamo al prossimo video Su Bioshock Infinite Tra Vediamo quando Forse la prossima settimana Oh ma buongiorno Spero che questo vi sia piaciuto Ciao a tutti C'è un vetro Peccato Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti